La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un'inchiesta sulle ferrovie del sud-est iscrivendo nel registro degli indagati il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e già Commissario della stessa Andrea Viero con l'ipotesi di reato di violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratterebbe di un atto dovuto dopo un esposto presentato nel luglio scorso da una turista milanese, denuncia che ha dato origine all'inchiesta. La turista denunciò il conducente di un pullman delle ferrovie sud-est perché si rifiutò di salire sul mezzo a causa delle condizioni di estremo disagio a cui era costretto a lavorare ritardando così la partenza. Le ferrovie del sud-est gestiscono 474 chilometri di linee collegando tra loro Bari, Taranto e Lecce. Gli accertamenti con ogni probabilità riguarderanno tutto il sistema di trasporto gestito dalla società.